ok buongiorno Maia buongiorno Luca Contorinca buongiorno Francesca buongiorno a tutti buongiorno a tutti ci troviamo per un incontro di dialoghi un po' un po' meno strutturato un po' più particolare del solito in diretta da al momento in diretta da Visoko in Bosnia-Herzegovina dove sono Barbara e Luca in questo momento e ci troviamo per parlare di questo luogo delle connessioni che ci hanno portato così qua in questo momento e vediamo dove la discussione ci porta in una specie di nomadismo che in questo è una parola che continua a venirmi in mente in questo periodo soprattutto in relazione a Visoko un nomadismo magari non fisico o non solo fisico ma più energetico non lo so queste parole che continua a tornare quindi buongiorno come state lì? Com'è oggi? Oggi si è svegliato come al solito la città in una nebbia perché questa è una qualità che io trovo che apprezzo moltissimo ci svegliamo sempre in una morbida fresca umida nebbia e nel giro di qualche ora esce il sole questo è un po' la norma poi chiaramente ci sono le nuvole ci sono c'è un cielo molto potente che continua a cambiare parlare qualche volta piove anche qui ma diciamo che questa questa routine è molto molto bella molto rassicurante molto equilibrante provo allora devo chiedervi secondo voi che cos'è con parole vostre senza magari rifarsi a quello che poi l'archeologia cosa cosa trovate all'isoco cosa vi ha chiamato lì ma a me inizialmente per me era una curiosità ma non era solo curiosità era proprio sai leggi qualcosa o senti qualcosa e sai che ok vado cioè nessun dubbio l'unico dubbio era quando ma in realtà io ti vedo un po' bloccata non so se nel frattempo mi sono ricordata che ho qua vicino due due libri che vengono da in verità sono delle raccolte con illustrazioni che vengono dal festival di crack di Roma uno l'avevamo preso l'anno scorso ed è guida turistica agli aldilà possibili e quello di quest'anno è la guida turistica agli aldi qua selvatici ecco mi sembrava una buona apertura per quello che stiamo facendo qui una specie di guida turistica per posti selvatici possibili magici vediamo cosa viene da quest'anno eh sì è anche quello che spesso ho scritto e ho detto sono in alla scoperta di luoghi liminali in cui puoi accompagnarvi o invitarvi a esplorare quindi mi ritrovo molto in questa in questa cosa e magari un punto in partenza interessante per me anzi è questo fatto che voi siete lì voi ci siete già stati mi avete parlato e mostrato delle immagini in questo posto e per qualche motivo una parte di me già si sente lì è chiamata lì e quindi questo aspetto è molto interessante è un luogo che chiama anche chi non c'è mai stato eh sì mi dai dei brividi è esattamente questo non si sa perché vieni a Visocco vieni perché hai visto un video hai sentito le persone che ti hanno detto e poi un momento ti arsi ma dove posso andare ah a Visocco è una chiamata del posto di Visocco di tutto il compresso perché per me e ho incontrato tante persone siamo chiamati sì io quello che penso è perché ci siamo detto in una delle nostre prime vite noi nella trappola dell'incarnazione ci si ritrova a Visocco e tutti i giorni incontri persone che c'hai impressione di conoscere da una vita in cinque minuti e soprattutto in in trenta secondi vedi che puoi parlare di tutte le cose che dove abiti non puoi parlare a tanti di tutte queste crazy idee e qua è ok ok ma anch'io è magnifico è magnifico è una chiamata sì 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 la connessione la connessione internet ci ha mollato un attimo ma la nostra connessione è pienamente attiva e a volte eh ma mi chiedo sì non è che mi chiedo ma penso magari stiamo anche un po' facendo un training no perché di fatto è vero ehm quando ero lì poi in quella stanza abbiamo parlato ero appena stata a Visoco prima di tornare qua e avevo la sensazione di un'espansione diversa un tempo diverso di avere con me questi luoghi ma anche sì quasi di poterli toccare sentivo proprio eh molto forte questo e la tua anima qua si sente bene e te lo fa subito sapere ti perché a tante persone quando ti chiedi ma cosa hai scoperto a Visoco tantissimi io il primo ti dico me stesso e da lì è è partito è partito è qualcosa di bello è da scoprire ma tanto è il tuo te che ti dice andiamoci per pesco per vedere da noi cosa succede o non succede ma succede qualcosa o no ma cambia qualcosa cambia qualcosa ehm sì è particolare che io sento già che questo cambiamento è in corso che appunto è una connessione sicuramente con un luogo geografico ma che va oltre la distanza fisica e è una cosa abbastanza singolare perlomeno a me non è che capita tutti i giorni dire ah sì lì lì no Visoco e e e si lasci andrà a un momento la chiamata diventa troppa potente di è veramente un sentimento bello e quando ti puoi ascoltare e mettere in applicazione le cose per riuscire a fare questo viaggio o a mettere le cose per essere in armonia della tua vita di tutti i giorni è un un primo ascolto di te stesso e ma quando assaggi a questo poi è complicato di mettere la ritromarcia e perché si vede il mondo cambia le energie cambiano e bisogna pensare a sé e tanto devi solo pensare a te stesso non puoi salvare nessuno e se non stai bene non puoi aiutare nessuno dunque la priorità tua è di tutti e di pensare a te pensare a te pensare a te sono completamente in linea con quello che dici e breaking the illusion break the illusion e da lì poi ti ascolti e se non ti ascolti te non lo so chi puoi ascoltare ma bisogna solo ascoltarsi se è il suo cuore sì posso fare un esempio mi viene in mente perché appunto per me è fresco dico la verità sono qua solo per la quarta volta anche se è bello no ma dico solo perché la sensazione dentro è che sono qui da tanto cioè non mi sembra solo il quarto viaggio questo è molto forte come sensazione e ti senti bene? mi sento bene mi sento a casa una delle prime cose che ho sentito quando sono arrivata qua è bentornata a casa quindi e si è messa a piangere sì non proprio piangere ma ero di gioia sì era di gioia sì era possa ma anche ieri abbiamo avuto due giorni fa abbiamo incontrato due francesi per caso sono passati anche a Tamme nel tunnel e ho detto bonjour e mi hanno risposto bonjour in cinque minuti dopo si faceva un grosso friog ci siamo scambiati i dati e la sera ci hanno scritto hanno detto oh si può mangiare domani sera insieme abbiamo mangiato insieme con un altro francese saranno dieci e ieri abbiamo passato il giorno con questi sette francesi dalle sette sono venuti nei tunnel abbiamo avuto una bellissima esperienza di quasi un'ora nell'ufficio e quando siamo usciti dell'ufficio poi la gente usciva con sorrisi wow 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 e e dopo il gruppo si è splittato noi siamo partiti con quattro di questi gruppi siamo partiti nel parco e lì non si può spiegare ma belle attivazioni personale ci si fermavano i boschi e apparivano delle cose magiche perché ti ascolti ma sei te ma non sei te ma sei te e si faceva delle cose e un ragazzo macchie durante dieci minuti era lì piangeva wow era in full connection con se stesso era gente che passava in questo pezzo di foresta che wow guardavano e facevano namaste e e noi erano 5 o 6 era bello e poi è stato il torno di un'altra ragazza di questo gruppo e ma era bello da vedere ma era soprattutto bello da sentire e non può succedere tutti i giorni ma vivi al secondo e e apprezzi può darsi quando vieni te o quando vengano altre persone se ci vogliono vogliono avere una direzione di vacanza perché arriva delle cose personali personali ma che puoi anche condividere in qualche modo no sì ognuno ha magari una sua interpretazione come tanti pezzi di puzzle però alla fine c'è una gran condivisione e non è che come dire ti senti proprio è tutto sempre più reale perché non è lo puoi condividere lo puoi condividere poi bisogna scoprire in diretta e live come però mi volevo proprio tornare un attimo sul punto della partenza perché secondo me è qualcosa di importante facendo un esempio pratico mi ritorno al discorso che volevo un attimo fare riguardo a prendere le decisioni perché secondo me è un sentire il proprio intento la propria bussola e poi iniziare a prendere delle decisioni non è che prendi delle decisioni perché hai un piano prendi delle decisioni perché a un certo punto cominci a ascoltare qualcosa che non è fondamentalmente il ragionamento il cervello può sembrare assurdo ma io banalmente mi sono detta beh io non so non sapevo all'inizio nemmeno dove sarei partita ma cosa ho fatto intanto ho preparato la valigia ho preparato una valigia e l'ho messa in macchina perché l'ho detto ok non so dove non so quando ma lo sento cioè i passi che ti avvicinano non per forza deve essere tutto un piano ma per me è stato tanto perché quando ho capito che questa era la cosa da fare l'ho fatta mi si è aperta la visione su sul resto ogni passo ogni piccola cosa che facevo mi schiariva veramente la sensazione su dove e quando andare e infatti è sempre molto difficile dare delle date o dei giorni perché ok il giorno parti prima parti il giorno dopo segui un istinto un istinto perché ci sono un tot di cose che devono in qualche modo succedere come l'ingranaggio come gli ingranaggi se noi prendessimo l'ingranaggio di un orologio da vedere affinché la lancetta faccia tic cioè ci sono diversi ingranaggi che devono fare i loro movimenti vabbè adesso abbiamo i digitali però mi ricorda ancora questi ingranaggi insomma sì tu vedi la lancetta che va tac ma in realtà dietro c'è tutto un lavoro e quindi è difficile dire sì il tempo più o meno lo vediamo così ma sotto sotto il tempo fila e dunque a te di fare quello che devi fare nella tua vita perché il tempo fila un momento l'orologio si ferma ma quando si ferma è un nuovo un nuovo beginning non avere paura perché la paura sei te che la crei quando finisce qualcosa si apre qualcosa di nuovo apri delle nuove porte e ci vai senza la paura perché la paura ha tanto due soluzioni ora guardi nell'occhio e sparisce perché la tua invenzione la tua paura non è la mia o sei brave e decidi prima che arriva la fine di questo l'orologio di questo physical body a te di fare tutto perché siamo venuti qua per divertirsi non siamo venuti qua per soffrire o per essere in modo automatico siamo venuti qua per approfittare di ogni secondo di vivere di essere liberi di fare quello che si vuole di approfittare dei bambini di dargli una bella educazione ma lo fai per te in primo poi i bambini diventano grandi ma tanto hanno la loro vita e esperienza da fare come tutti di noi non è una quest è solo di apprezzare questa vita e per questo ti devi mettere in fase per essere in armonia con te stesso e di ascoltare meno il tuo ego e di ascoltare di più il tuo te è una cosa che sto sentendo in questo periodo che ho passato la vita a cercare a fare cose per capire chi sono trovare me stessa e penso che il tempo che il tempo di fare sia passato almeno per me proprio un tempo di essere questo bisogno solo di essere ma e questo essere mi porta in altri luoghi mi porta in altri in altri spazi e sicuramente mi sta avvicinando il tuo paradiso lo crei dove sei lo crei con la tua armonia personale e per questo c'è due fondazioni in primo e di amarti e di credere in te quando c'hai di già questi due passi poi metti in armonia per essere bene nella tua vita ma il tuo ego Francesca o Luca ha impressione di perdere il controllo e non gli piace tanto e a te non ti preoccupare sei qua ti amo ma ora ti do meno spazio perché mi ascolto e perché è il tempo di essere e voglio approfittare e mettere in moto le cose per creare il tuo paradiso intorno a te per la tua armonia perché più che sei in armonia in connessione con te e più che stai bene e non c'è da pensare non c'è da pensare c'è solo da seguire il suo feeling come quando sarà piccolini che che vedi una buca e giochi ora ci vado dentro e a un momento verso i 9 10 anni ma si vado dentro le paure perché il sistema ma dobbiamo essere in un sistema ma a te di se no devi è una illusione questa è una illusione non non sei questo corpo sei sei più di questo corpo la tua conscienza la tua elevazione fuori di questo corpo e quando la la integri in te perché te è tutto più facile sì soprattutto non sei questo scorpo imprigionato in questa illusione ipnosi di massa dove in questa prigione mentale e questa prigione mentale in interazione col sistema con la matrice artificiale ok ma te te pensa a te fai il tuo mondo ti rispetto io faccio la mia vita e quando ti lanci e che ti metti a ascoltarti sei veramente un creatore è facile ma non è facile ma è facile e una volta che sei partito che hai ripreso il controllo che la tua che il tuo te ha ripreso il controllo di questo corpo e che ti muovi e che sei in armonia e che sei nel flow perché non sei in modo automatico che apprezzi tutti perché per me la meditazione non so ammettimi 20 minuti no la meditazione di fare la cucina perché ti piace fare il giardino di essere nel momento il passato non esiste più il futuro è in creazione e la meditazione è essere nel momento io vado a volentieri in meditazione anche un'ora ma un'altra storia penso che mi arrivi stai camminando e poi improvvisamente cosa succede qua e ti fai un viaggio fondamentalmente sì cioè meditazione alla fine sì perché è chiaro che la disciplina a un certo punto di questo programma che abbiamo nel cervello se vogliamo che esegue con un po' di azioni capisci che c'è l'interruttore che il programma può servire può non servire puoi attivarlo se ti serve puoi disattivarlo e che poi dopo ti accorgi che quasi puoi anche tenerlo disattivato praticamente sempre se vuoi ma è tutto un work in progress però è interessante mettere in pausa le cose perché alla fine noi abbiamo creato tutte delle reti di pensiero di relazioni siamo dentro le reti di pensiero e di relazioni degli altri tutte le connessioni che abbiamo fatto da quando siamo arrivati qua che abbiamo fatto con la famiglia con il luogo con i figli con gli amici quando nella vita vai avanti a costruirle ma non le spolveri mai alla fine sono tante tante reti sono tante connessioni e non per forza tutte le connessioni ci nutrono e a un certo punto arriva quel momento in cui senti che cavoli talmente prendi queste reti adesso le vedo come se fossero delle ragnatele piene di polvere e arrivo a un certo punto che quasi quasi sono sottili ma sono talmente tante che quasi quasi non vedo più non mi muovo più e quindi in quel momento la pulizia deve essere un po' più potente perché se si arriva a un punto del genere magari devi fare un'azione e crolla un attimo tutto ma tu ci sei tu ci sei cioè non è che appunto quello che crolla alla fine non è è un'illusione che crolla è un programma è un programma che spacchi e per questo che per me da quando sono venuto qua la prima volta ora è tre anni che mi guido da me stesso e che so guida perché dico la mia vita e dunque quando le persone ci incontrano me e Amaia siamo armonizzatori guida si parla nel visibile e nell'invisibile perché tutto passa anche nell'invisibile e è per questo che è il nostro lavoro di dare la nostra esperienza e di darti le chiave che sono in te e che hai solo te da poter aggiustare e dunque ti si dice ascoltati te quando si passa una settimanetta di più insieme e non è facile ma è facile ma succedono delle cose e non è uno scherzo e e sono anche violenti le cose delle volte premi perché ti levi le maschere ma quando hai messo in evidenza un problema che ti non volevi rivederlo ma che era qua hai fatto la metà del lavoro c'è solo da decidere cosa faccio o ho chiesto in questo modo o faccio dell'aggiustamente nella mia vita per passare oltre questo che non mi andava bene e questo sono prese di decisione personale che solo te puoi prendere con la tua connessione e la tua fiducia in te stessa e non c'è niente di insuperabile è tutto possibile ora è veramente tutto possibile quando vuoi nessuno ti ferma e dunque veniteci a trovare sì non c'è un metodo poi oltretutto c'è un luogo che ha potenti frequenze e tante cose si possono dire ma per qualche ragione ci sono delle costruzioni delle forme delle linee insomma ogni cosa crea la propria energia e noi siamo comunque in un corpo che pensiamo ai bisogni fisici primari ma in realtà siamo anche delle antenne poco utilizzate e come antenna alla fine entriamo in connessione per questa cosa possiamo comunicare e sentire che la vibrazione passa agli altri come gli apason che creano questa sintonizzazione poi ognuno a modo suo ognuno con la sua vibrazione particolare però in sé è vero che proprio questa frequenza armonizza è come una nota più chiara più limpida più cristallina più non so se esiste l'intonato o stonato come si dice però diciamo più armonica ecco e ognuno la sua ma ci si capisce che stare sì stare vicini è molto diverso tu entri in risonanza più facilmente se quello che tu sei e stai cercando è questo lo sentirai se quello che stai cercando è il bar dove le persone si si stanno stanno vivendo un'altra frequenza entrerai in risonanza con quello al fine non è una questione di almeno io non giudicherei in senso sono esperienze ma a un certo punto arriva il momento di vivere questa esperienza di una connessione diversa e appunto molto ricca di sfumature piani piani di frequenza non so come vogliamo chiamarli paesaggi foreste gente bellissima di bosnia bosnia sono magnifici si mangia bene la gente che incontri dal mondo intero subito c'è connessione perché non c'è connessione ma attiri le persone giuste e passi dei bei momenti no secondo me quello del diapason è un ottimo esempio proprio quello che ho vissuto io che si è arrivata a raccontarmi in questa stanza di questo posto e mi avevi già parlato in passato di bisocco però non ero entrata in questa risonanza probabilmente anch'io ho fatto una serie di passi che mi hanno permesso di essere qua ora a risuonare ma ho proprio sentito la vibrazione arrivare e continuo a potermi rimettere su quella frequenza e così dal nulla intanto nella giornata arrivo a quella frequenza e qua bisocco sto pensando all'altro e ok sicuramente ci saranno altri punti così sul pianeta ma in questo momento e questo appunto per ritornare a questa parola il nomadismo questo fatto che sia un punto dove le persone un po' dappertutto passano arrivano perché nel loro cercare a un certo punto risuonano lì penso che sia un'interessante amplificazione una vibrazione io sono molto sull'individuale di solito guardo come vibro io ma in questo contesto sento una vibrazione più ampia per me è interessante sperimentarla sì vai un po' anche la sensazione di essere oltre un po' lo spazio-tempo perché hai proprio tante volte questa sensazione di ti riconosci ma in un altro modo e dici ok e appunto probabilmente sono io adesso le chiamo impronte energetiche perché è la cosa che mi risuona di più no però trovo e senti subito se stai vibrando nella stessa frequenza poi magari non ti parli neanche passi sorriso per dire non è che la condivisione qua è appunto puoi scegliere puoi sempre scegliere c'è sempre tutto non è che tutto è uguale a noi come stiamo parlando questa premessa perché poi ma hai proprio la sensazione che puoi entrare in frequenza e capire se è una frequenza per scambiare due parole se è una frequenza per entrare in connessione e quasi quasi per tornare anche un po' alle storie che con Cosme ovviamente sono importanti anche per me con Ciccatrice Baci la questione della narrazione è come se incontri i personaggi e capisci se sono parte della tua storia o con cui puoi condividere una storia o se sono altre altre narrative che passano e è molto entusiasmante per me questo anche solo quando per un attimo osservi perché mi sembra sempre più chiaro questa distinzione o questo e poi è sempre una una decisione è sempre quello che fa partire tutto anche anche dichiararlo ogni tanto non è male cioè proprio mi sono resa conto che quando ho detto ma sì io vado a Svisoco cioè l'ho proprio detto così e poi improvvisamente era tutto più oppure quando ho deciso di portare proprio voce a questo nome che sentivo Amaya ho detto Amaya ma chi è Amaya? ma sei tu? sono io Amaya ok hai iniziato a dirlo hai iniziato a dirlo e wow ok è il mio nome cioè improvvisamente da queste sensazioni normalmente fai fatica a condividerle in questo spazio dove ci sono tutte queste reti queste ragnatele queste frequenze intenzute da tempo mentre qua essendo che tanti vengono per guarire per scoprire si stessi c'è anche il potere della guarigione proprio fisico quindi c'è qualche device non so come chiama meccanismo in qualche modo strutturato sopra sotto la terra per la conformazione che proprio aiuta tantissimo la guarigione ma anche persone molto scettiche no? e io ti dico siamo entrate in questi tunnel dove puoi accedere su richiesta perché non non c'è il flusso continuo dei visitatori abbiamo accompagnato un gruppo e c'era una donna che stavamo parlando un po' e Luca spiegava un po' la situazione era un po' scettica ma sì però come ma questo com'è era un po' faccia delle domande ma un po' un po' scettica un po' era sulle sue no? poi ha messo il piede in un punto si è floccata così ha iniziato a ricevere inizia un po' così poi ha iniziato a piangere a piangere di gioia stava bene si è fermata lì un sacco di tempo e un sacco di tempo da quarantina di minuti da quarantina di minuti e io perdo un po' il senso del tempo quindi non mi ero resa conto ma per dire no? quindi cioè e quando tu comunque sei in un contesto in cui tu vivi questo altri vivono questo ognuno ha un modo suo eh lui in questo punto lei in quest'altro in questo modo cioè magari ci sono dei punti dove ma può essere molto personale e inizi a discutere di cose dialogare in un altro modo però è difficile poi noi possiamo magari far passare sì perché comunque energeticamente passa però i dettagli è quasi un po' inutile discuterli qua magari quando ci si trova al caffè o su un prato o in un tunnel o su una piramide a Visoco è facile invece che condividi altri tipi di dettagli quando vieni Francesca? non sono ancora pronta per dirlo sto lavorando in famiglia Visoco universo chiamala di più forte la valigia è un ottimo punto di partenza perché tu l'hai fatta in caso sì sì quanti chilometri per la Svizzera c'è 1.2 è 12 ore io ho visto di guida in caso in un'auto però sì per dare un'informazione ho l'aeroporto di Sarajevo e a 25 chilometri ma è è da vedere è da passare un bel momento con se stessa e con noi quindi per spiegare un po' anche se poi si lascia tutto al flusso ma per chi arriva chi volesse arrivare da voi viene accolto a Visoco e poi cosa succede? ma allora innanzitutto beh Condorinca è qua quindi volendo tutta la stagione se qualcuno vuole arrivare basta contattare e e poi si può decidere assieme c'è un van con nove posti quindi per gruppi per insomma singoli volendo e c'è la possibilità di essere accompagnati nella giornata se si vuole passare tanto tempo assieme alla scoperta di luoghi che sono quelli più conosciuti e magari anche quelli meno ma questo non con un programma perché ognuno che sia singolo o che sia in gruppo arriva con il proprio percorso e quindi non si può già fare un programma si può entrare esatto è qualcosa di libero non so se arriva la voce da lì si è sentito sì che non si può veramente dare troppi orari un minimo ci si decideranno assieme ma di fatto si entra in un flusso poi ci sono le necessità se qualcuno arriva con l'aereo si può andare a prendere a Sarajevo perché comunque è vicino sono 25 chilometri ci sono bus che arrivano penso anche treni in qualche modo ci si arriva io faccio avanti e indietro dal Ticino per ora quindi posso dare passaggi si può venire iniziare il viaggio da lì con me la mia macchina però direi tre massimo quattro persone poi non ci stiamo ma funziona perché sono 12 ore io non guido per 12 ore quindi ci vorrebbe un copilota diciamo ecco se qualcuno si presta a guidare noi fai 14 ore con le fermate necessarie ci arriva ci arriva tranquillamente e c'è un gran sistema di alloggi quindi si può passare anche il tempo qua per dire con una tenda o con un po' spartano qui dove siamo ma si può stare per chi piace questo tipo di vita poi ci sono tutti i vari livelli e ci sono un po' di contatti per cui si può per 15-20 euro passare la notte qua la vita è veramente rispetto alla Svizzera è poco cara perché se tu puoi dormire veramente con 15-20 euro se prendi 30-40 euro puoi stare in diverse persone magari a un appartamento che ha 4 letti 5 6 è molto 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 semplice una volta investito nel viaggio qua per stare molto semplice perché la vita hai tutto quello che è necessario ma non hai troppo quindi quello anche aiuta il ritmo non è stressante le persone sono aperte sono si mangiare si mangia quello che si vuole si può trovare ancora frutta verdura di qua che ha gusto si mangia nel ristorante spendi poco perché cosa abbiamo 10-12 euro 10-12 euro ti fai un pasto completo insomma in il ristorante non al caffetteria insomma ma si guarda da quel punto di vista non manca nulla anzi quindi bisogna arrivare con uno spirito comunque di lasciarsi lasciarsi portare lasciarsi guidare dall'uomo anche di apertura si può anche arrivare con un altro spirito e vedere cosa succede ma probabilmente si finirà comunque a farsi guidare dal luogo si magari ci vuole qualche giorno in più ma può darsi che si questa sera cosa seconda solo è veramente bello da scoprire seriamente si l'avventura l'avventura di una vita esatto un po' di avventura sì sì ieri abbiamo visto per due giorni è passata una lepre qua sopra hai visto un'aquila o cosa è lepre ah l'aquila è un falco sì sì c'è tanta natura ci sono alberi molto antichi e e l'altro giorno ah sì siamo saliti in un punto dove sono andata mi attraeva molto sono andata diretta mi sono trovata di fronte un ciliegio selvatico enorme io non l'avevo mai visto una cosa del genere cioè da noi non li vedo mi ricordo da piccola di essermi arrampicata su amareni e ciliegi selvatici ma adesso non li trovo non li vedo più cioè e questo era enorme 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 mi sono fermata un attimo lì poi poi cosa è successo ah sì abbiamo fatto un pezzo poi dopo un'altra meditazione non lo so un sasso che mi ha chiamato una breve breve meditazione diciamo un riposino quasi dalla camminata sono sono andata ah sì sono andata a cercare Luca con Rinca ogni tanto abbiamo i due nomi non l'ho trovato ma sono arrivata cioè proprio sono andata diretta oh cavoli mi sono trovata di nuovo lì allora ho detto eh vabbò allora vado a salutarlo praticamente da un albero è partito un falco mi è passato lì oh non è così evidente cioè vedere per me normalmente un falco a questa vicinanza sarà stato quattro metri massimo da me cioè ok non è una cosa che tutti i giorni è la libulule libulule butterfly blu di un blu ah sì abbiamo visto anche questa non la butterfly la dragonfly bellissima un blu ma wow completamente blu sempre in quel posto sì sì e poi ci siamo chiamati ti abbiamo fatto camminare nella foresta eh sì poco prima che hai sentito delle cose sì sì interessante su tutto beh io sto mi sto informando comunque ho guardato come con i voli come con l'auto come con quindi sto facendo dei movimenti sì sì se vuoi condividere qualche foto non lo so sì adesso nel no non lo so se è possibile qualche foto di visocco ecco adesso devo vedere dal computer guardo intanto che voi andate avanti controllo un attimo se qua sul computer lo già scaricate perché eh c'è tante sui televisivi sì e poi tutte le stagioni a visocco sono differenti autunno differente l'inverno tutte le stagioni le energie cambiano i paesaggi cambiano con diversi colori la gente sta sempre la stessa bellissima il mangiare non cambia e dunque sono viaggi che si possano fare tutto l'anno quando c'è una settimana si concorda questo e siamo quattro cinque sei sette il massimo è sette persone per avere un bel gruppo si può venire tutto l'anno è tutto possibile qualcosa c'è l'organizzatore ha disabilato ok non posso condividerlo senza Francesca tocca a te organizzatore a dare l'abilitazione per la condivisione per piacere sì no limit non so come non so come farlo però ah prossimo e perché adesso non essendo organizzatore mi so che mi mancano aspetta forse ho visto prova ora ok vediamo adesso ho questo si vede si vede in grande o in piccolo ah sì abbastanza in grande eh perché sono foto verticali comunque adesso aspetta che devo liberarmi la freccetta adesso non so è la cartella telegram magari certe cose andremo avanti veloce ma qua questo è uno di questi alberi che abbiamo incontrato quando chiacchieravamo con te è troppo bello veramente questa porta su un altro mondo sì completamente poi qua ho fatto la foto sembrava quasi che ci fosse qualcuno che mi guardasse da dentro ma c'è qualcuno mi sembra di vedere una pantera nera eh può darsi ma poi è tutto possibile un jaguaro una pantera sì ah qua se si carica beh queste sono altre foto di cicatrici e baci aspetta ma dopo c'erano quelle ah qua era Amaya in meditazione sulla piramide del drago sì bella ecco un posto ah sono io nella time machine sì la time machine è un nel parco perché c'è dove c'è i tunnel c'è un parco con tanti eh e c'è la time machine che è come un vecchio tempio all'epoca con una 12 colonne di una parte 12 colonne da un altro e senza tetto e si chiama la time machine questa è una vista con in fondo a diritto si vede la piramide del sole è una vista da un stetschak e in centro a diritto c'è una vista una view della piramide del sole non so se si vede anche il mouse sì sì si vede anche il mouse wow quante piramidi sono? così possiamo indicare le altre specialmente ce ne sono cinque la piramide del sole la piramide del drago la piramide dell'amore la piramide della luna e il tempo di che è una piramide anche questo è Bob il mio van di otto posti più o meno nove un quale si può andare a destra e a sinistra dei paesaggi magnifici che fa anche delle strade lì vedrai una vista del plateau della piramide del sole dunque si vedono delle belle sceli e il programma si organizza nel flù si va veramente come si deve andare col gruppo qua è dalla piramide della luna della luna si è sulla piramide della luna e si guarda verso la piramide del sole e l'amore il sole amore amore e e viso occhio e qua sotto quindi comunque diversi punti sono raggiungibili col tuo van non me chiedi sì o a piedi la presenza fisica per venire o a piedi sì anche se hai 80 anni puoi andare eh guarda c'ha il 92 anni pensa te americano è lì che scava tra alcuni volontari che riuscivo alle quasi 28 ore di aero per arrivare il il plateau della piramide del sole con la neve con la neve e non l'ho ancora visto è così però lo vedrò mi sa se vado avanti così a tornare sempre l'inverno c'è 4 4 gradi 8 gradi sulla piramide del sole le energie sono molto dolce questo è c'è due river c'è la fornizza e la bosnia fornizza forse sì fornizza ma questi sono io che la parte artistica è che tutte le volte che vedo questi segni penso che prima o poi li saprò leggere ma questa è una cosa che mi porto da un sacco di tempo allora me li osservo un po' perché sembrano proprio un bel cavo elettrico vabbè c'è anche l'elettricità quindi eh sì questo è bisogna fare gli zoom queste cose è una vegetable questa è una fonte di acqua quando si va a move insomma madre terra ma sempre il fiume beh queste sono quelle che ho fatto l'altra volta non ho ancora scaricato quelle nuove qua sul computer piramide del drago in la discesa però dall'altra parte sì eh eh tanta natura beh ovviamente non sono andata nella cittadina a fare tante foto però c'è anche il piccolo il paese che ha tutto quello che serve il mercato il lunedì mattina un po' di pietre pietre del complesso che hanno tutte o molte hanno questa forma particolare o si vede che è una non sono le classiche pietre che si possono trovare qua sembra che abbiano una struttura diversa e lì sono diversissime tra l'altro l'altra siamo nei tunnel e il K2 è un megalit e questa è ceramica e dunque la ceramica è poi molto potente è bello passi dei bel momenti accanto al K2 i tunnel una parte dei tunnel ti senti bene nei tunnel dei bel cieli cibo per i carnivori tunnel dunque non c'è una parte acrostropica si sta bene nei tunnel dunque come vedete c'è dei bel cieli nuvole molto verde è qua dalla piramide del sole ok qua un po' di boschi molto diversi questo è piramide del sole si vede che è un po' in pendenza non si vede benissimo nelle foto ma si vede piramide del sole piramide del sole ah qua è sopra i tunnel parco parco dell'occhio del drago è lì che è successo le cose ieri si non è proprio lo stesso punto ma si comunque questa zona praticamente è il parco della fondazione e tu lì ci sono i tunnel sotto e sopra comunque puoi stare camminare tutto il giorno è lì anche il parco dove c'è la time machine qua alcuni dettagli dell'energia come crescono i germogli prendi il tempo si c'è il tempo di approfittare di te di tutto quello che c'è intorno a te è la piramide dell'amore è questa beh si vede meno la piramide ma ma ci si sta bene ah io e Swad si l'unico che viene a vendere oggetti pietre cose utili sulla piramide del sole è già un personaggio particolare molto bello siamo incontrati Rakia Rakia offrono la grappa locale ma è molto carino sempre lì quali gli steri altri altre pietre da visitare questi sono pietre anche magari non si vede bene ma che hanno un po' una struttura come se fosse un grosso baule un baule se vogliamo ma soprattutto l'energia che c'è in questi posti dove ci sono i stecciac è molto particolare io la sento qua torniamo sui tunnel qui dove abbiamo la casetta ora funghi fungo particolare querce qua non si vede la grandezza metto avanti arrivo sì questa quercia è enorme infatti ho deciso di fare la foto perché era una quercia mai vista da tempo l'erba come quando si era bambini ci si perdeva nell'erba alta quanto te qui ah da qua sopra si si qua è probabilmente mother earth mother earth qua dietro ci sarà la luna da qualche parte ma come vedete aria aperta libertà prendere tempo alla piramide del sole qui la piramide del sole e dalla nostra vista love 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 mother earth e non so se è già questa la piramide del luna o non si vede ma da qualche parte qua aspetta per francesca con questa foto sì questa francesca è una piramide è la piramide del sole vista da quanto è da casa nostra un po' più su di qua sì poi qua è sempre la piramide dell'amore mother earth e qua sta la piramide della luna giusto? sì quella non si vede un po' più piccola un po' più faticoso vederla da lontano ma magari abbiamo altre qua invece è sulla piramide della luna è un momento in cui stava scendendo il sole e aspetta cosa c'è? no qua siamo ancora tornati qua è perché non sono un po' scombussolate le foto ma vabbè questa è la piramide del sole vista dalla città di Visoco così per rendere l'idea che quella è molto dominante sulla cittadina sì qui dalla piramide della luna c'è un'energia di pace se ogni piramide e ogni posto ha la sua propria energia qui si sale alla piramide della luna questa è sempre della piramide nel mondo sì sì questi sono delle pietre del complesso che si trovano un po' dappertutto sono anche chiaramente a piazzerotte non è che vedi il tempio ricostruito come il tempio greco così ma trovi molti dettagli che poi piano piano perché i tunnel più li vedi più ha senso li riconosci tipo qua è sulla piramide della luna i tunnel sono stati ritappati ma delle lunghe sezioni della terra dentro e dunque vedrai questo per me col tempo che è passato ha messo il sito il compresso è attivo perché è stato protetto da una civilizzazione che ha tappato tutti i tunnel per non accedere ai sistemi chiave del compresso dunque le energie è tutto in moto i segnali fa poi a voi di guardare ma si spiega qua ma il compresso è attivo qui siamo sulla piramide dell'amore si vede la piramide del sole da questo punto di vista ovviamente è la più grande quella del sole quindi la vedi da tutti i punti di vista fa 240 metri di no questa è il sole la piramide ma qua ho fatto sta foto perché è passata una nuvola che ha oscurato solo questa parte mi ha colpito molto sembra la piramide del sole anche se all'ombra vabbè poi mi sono persa un po' a fotografare il cielo dove si possono vedere tante belle cose merenda perché miam miam trovi questi ciliegi selvatici qui siamo vicino al tumulus si che non ho fotografato perché perché c'è stato uno scempio di un luogo che non ce l'ho fatto a fotografarlo vabbè si scoprirà si scoprirà la piramide non potenziale piramide ah qua stavo partendo quindi la Bosnia e la Fornizia Bosnia e Fornizia che si uniscono e sempre dalla città si vede il sole e l'amore e poi un po' di pietre ah ieri spiega la coincidenza con questa piuma con il gruppo di francese si si allora ieri questa l'ho presa all'altro viaggio l'ho messa nel telefono dietro la la copertura del telefono no? come si chiama? la custodia del telefono e poi abbiamo avuto questa giornata con queste ragazze francesi a un certo punto io ero sul tavolo aspettiamo no? sì non so se vabbè comunque intanto è una piuma di Ghiendaya così per chi non lo sapesse è una piuma di Ghiendaya e neanche il nome francese me lo ricordi perché mi aveva colpito e vabbè ha un significato ha un suono interessante il nome francese che però io non mi ricordo ma praticamente allora ero eravamo in un gruppo di sette ma improvvisamente io ero da sola con altre due ragazze al tavolo e gli altri si erano spostati vedo ci scambiamo i contatti vedo una foto di piuma di Ghiendaya e gli ho detto oh che belle queste io ne ho proprio trovata una qua ne vedo ne vedevo nell'ultimo viaggio e faccio per aprire la custodia del telefono l'altra mi guarda e mi fa ah sì anche io e si è messa aprire la custodia del telefono e anche la terza anche io allora eravamo noi tre al tavolo ognuna con la sua piuma di Ghiendaya ma devo trovare la foto ce l'hai tu forse comunque abbiamo fatto la foto perché tutte e tre con la piuma di Ghiendaya e vabbè è stato carino una bella coincidenza una coincidenza così e un esempio di questi tipi di coincidenze così sì e però la Ghiendaya ho visto cioè però inoltre non non so non ho non è che sono fanatica di queste cose ma per curiosità visto che continuavo a vederne sono andata anche a chiedere cioè a guardare su internet se c'era qualche informazione è molto interessante perché ho trovato che la Ghiendaya è un uccello che imita gli altri uccelli quindi può darsi che senti tu pensi di aver sentito un altro uccello invece è sempre la Ghiendaya che imita anche gli altri uccelli è interessante molto interessante questa cosa quindi è anche capace di entrare in sintonia no se vuoi conosci i linguaggi cioè può comunicare anche con i linguaggi di un altro come se io so tutte le cioè come se io sapessi tutte le no sapessi le so comunico in inglese in francese in altre lingue la Ghiendaya fa la stessa cosa interessante e in più l'associano molto alla determinazione perché pare sia appunto sia piuttosto determinata quindi determinata locale cioè quindi anche protettrice della casa non è un uccello che migra ecco se vogliamo resta in zone è molto interessante comunque mi ha colpito quindi voilà qui siamo sopra i tunnel perché diciamo che è molto forte anche se banalmente qua ci sono dei posteggi per chi è attrezzato si può dormire sui posteggi e io ho dormito l'altro giorno è interessante è un'energia particolare perché anche dormirci sopra in alcuni punti è molto forte la piramide della luna si può fare perché c'è proprio un camping già attrezzato o puoi andare col tuo veicolo se ce l'hai però ecco qua è ancora tutto piuttosto libero rispetto alle regole che abbiamo in Svizzera non potresti tu dormire adesso in una macchina a caso qua è ancora piuttosto tranquillo sereno l'acqua ah sì l'acqua l'acqua è molto buona noi andiamo a prendere l'acqua a sorgenti che sono sorgenti classiche come c'erano una volta e ovviamente acqua informata dall'energia del luogo quindi sarà anche eh sì perché gira lì e sono anche molto diverse senti proprio il gusto diverso quindi al di là dell'energia anche solo col gusto senti una diversità e qua siamo andati per caso sbagliando strada però abbiamo trovato questi pezzi di complesso quindi qua dove esserci stato qualcosa di ampio di grande che questo è il cibo per chi interessasse il cibo che ho mangiato all'arrivo e alla partenza che mi ha molto colpito perché comunque per informazioni tre euro perché è lo small poi c'è cinque euro quello grande ma lo small è molto grande è un calzone con funghi formaggio panna puoi metterci anche pollo cose beh insomma cose che fanno in Bosnia e qua finiva il mio viaggio mangi a qualsiasi ora mangi a qualsiasi ora sì penso che più o meno è finito quindi ma è giusto per dare qualche informazione visiva che poi non sono tra l'altro le ultime perché appunto non le ho scaricate qua ma quelle poi anche sui profili facebook instagram noi condividiamo condorinca anche un canale youtube che si chiama proprio chiacciola condorinca poi si possono mettere i dati perché comunque appunto postiamo un po' così anche a volte io metto solo delle storie così non restano lì a lungo ma così per un momento particolare quello che in generale sento forse non non è un viaggio per tutti non tutti risuonano con questo ma che se ti tocca risuona ecco è il momento di muoversi e andarci interessante sono quasi un po' senza parole io no ma diciamo che abbiamo fatto il giro e in armonia con i due libri che hai fatto vedere all'inizio dopo un'ora e qualcosa di discussione insieme sì 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 beh si possono anche organizzare magari dei viaggi con Cosme se volete scoprire Francesca e Amaia e me è tutto possibile non limit sì sì anche anche perché è come è qualcosa che inizia e che poi può sempre diciamo può essere molto adattato stabile perché un singolo ha una sua storia un gruppo che si compone così per risonanza anche però mi è capitato di parlare anche con per esempio il gruppo di danza o il gruppo di kung fu di cui faccio parte quando sono in Ticino e ci sarebbe un po' anche la scintilla per cui se c'è un diciamo qualcosa in comune che vuole uscire tipo andare a visitare qualcosa che risuole in particolare anche con già un gruppo di interesse penso che veramente è molto il flusso si crea proprio così unendo necessità interesse decisioni e voilà grazie per questa chiacchierata together grazie a voi per averci fatto fare un giro si parla inglese si parla francese si parla italiano e si parla il linguaggio senza parlare è tutto possibile perché l'invisibile funziona tanto ti possono venire dei brividi delle cose così e wow si arrivano già a distanza perciò si ma ti vedo molto rilassata come noi si ma lei è già qua con noi si mi mando un bel bacio bacio a tutti si si grazie grazie a te di averci invitati a presto grazie a chi si riguarda il video la registrazione magari vuole delle informazioni siamo tutti e tre disponibili e non mollate nulla state nel vostro cuore nel vostro centro siamo una grande illusione non lasciatevi contaminare da tutto quello che succede intorno state forti si bisogna imparare a capire bisogna aspetta riformulo la frase ma è molto interessante che è un'illusione con cui noi interagiamo quindi riprendere un po entrare in modalità creativa nei giochi di mio figlio c'è modalità creativa quindi i ragazzi sanno qual è la differenza noi anche più o meno lo impariamo impararlo da loro ma lo impariamo in fretta ciao ciao grazie ciao